Cambiare marcia al campionato del Pescara. La missione che la società ha affidato al neotecnico Roberto Breda è chiara. Troppi punti per vari motivi lasciati per strada. Un ultimo posto che fa paura quando inizia un mese cruciale perché è denso di impegni. Sette partite in 30 giorni. Sette partite per provare a invertire il trend e risalire la classifica prima di chiedere aiuto al mercato di gennaio. Ieri Breda ha diretto il suo primo allenamento. Staff tecnico in parte rinnovato con il neo allenatore. Ci sono il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona, il preparatore atletico Donatello Matarangolo, il preparatore dei portieri Guido Nanni. Quest'ultimo già a Pescara nello staff di Zeman nella stagione 2017-2018. Per lui dunque un ritorno. Confermati l'allenatore in seconda Felice Mancini, il match analyst Diego Labricciosa e il recupero infortunati Francesco Petrarca. Ai nostri microfoni Breda ha confermato di avere già in testa un modulo per il Pescara ma di voler aspettare il lavoro sul campo per avere conferma sulla inizia l'idea o cambiarla. In passato ha già praticato il 3-5-2 ma anche il 4-2-3-1 e 4-3-1-2. Si può immaginare che Breda mantenga per ora la difesa a tre per non sconvolgere troppo determinati equilibri. Il neo allenatore ha anche parlato della volontà di valorizzare le migliori risorse dell'organico e allora ecco che vengono in mente nomi importanti che finora per vari motivi hanno deluso. Bocchetti in difesa, Valdifiori e Memusciai a centrocampo, Galano in attacco. In particolare ridare centralità a Valdifiori può voler dire riportare il centrocampo con un vertice basso e due mezze ali. Oltre a questioni tecniche il neo allenatore dovrà anche concentrarsi sulla condizione atletica, fattore che sotto la gestione Oddo è finito sotto la lente di ingrandimento della dirigenza. Che questa squadra corra meno degli altri credo che sia evidente in campo, non lo devo dire io. Può darsi anche che corra male, magari stando bene fisicamente però si corre male in campo. Quindi questo abbiamo chiesto a Breda, è il suo messiere, quindi non è che possiamo chiedere più di tanto. Noi chiediamo di fare il suo lavoro a chiunque arriva qui e di farlo al meglio. Ai giocatori però chiederemo altrettanto la stessa cosa. Sicuramente un impegno maggiore perché non ci si può sempre nascondere dietro qualcun altro. Sarà un debutto speciale per Breda? Ad Ascoli sfida nella sfida con il suo maestro Delio Rossi. Lo stesso neotecnico ha confermato di aver trascorso a Salerno con lui gli anni migliori della carriera con promozioni prima in B e poi in A. Delio per me è stato fondamentale perché sia da giocatore sia anche nella scelta poi di diventare l'attore lui ha un ruolo predominante. Gli devo molto però logico che poi la posta in paglio, considera che poi anche un derby è alta e ognuno di noi fa quello che deve fare per fare il risultato. Derby tra due squadre in grossa difficoltà. Delio Rossi è stato chiamato ad Ascoli in sostituzione di Valerio Bertotto e sarà un ex della partita. Alla guida del Pescara il tecnico riminese sfiorò la promozione in Serie A nel 96-97. Tornò nella stagione 2000-2001 dove fu esonerato e richiamato ma quella squadra, dove non mancavano grandi nomi, retrocesse in Serie C.